Gretini e cretini, c'è chi dice che sia una scimmia maestrata ad esempio, e non lo dice mica uno diciamo il tipico uomo della strada, no no lo dice un professore, un eccesso professore ha un curriculum nella bio che è lungo così, altri invece credono che sia tutta una questione di massoneria, poi c'è chi dice un'abile operazione di marketing oppure quelli che la deridono per i suoi atteggiamenti, per le sue espressioni, per i suoi modi durante il suo discorso, del resto quelli che la deridono immagino quando a 16 anni hanno parlato alle Nazioni Unite davanti ai potenti del mondo sicuramente hanno avuto una dialettica, una fluidità di linguaggio assolutamente non comparabile con quelle di Greta. Greta Thunberg è lei la nuova nemica del momento, quella dei vomitatori seriali della rete, dei complottisti, quelli che la sanno lunga, che inviscono sui social dove anche i vigliacchi sembrano agguerriti. E siccome la sanno davvero tanto lunga, l'hashtag ieri che svettava su Twitter era Greta Thunberg con la M, giuro, al posto della N, tanto per farsi riconoscere nella loro solita, tra l'altro, acquosa ignoranza. Però in fondo la nuova ondata di insulti, se ci pensate, che questa volta investe la Thunberg, nasconde i soliti ingredienti che si possono analizzare, dicono, perché poi alla fine sono una costante di tutte le offese. C'è l'invidia, l'invidia che ha sempre bisogno di scovare qualcos'altro per provare a legittimarsi. Ogni volta che si incontra nella vita qualcuno che ce l'ha fatta o che è semplicemente migliore di noi in quella cosa lì e allora ci deve essere dietro qualche potere forte che lo spiccia. E così loro, gli invidiosi, si sentono realizzati nella loro mancata realizzazione. E sono contenti così. Gli invidiosi poi li riconosce perché hanno bisogno di demolire gli altri, perché sono incapaci di avere a che fare con la propria ambizione. Tagliano le gambe agli altri per sentirsi dei giganti. Bravissimi. E poi c'è l'ignoranza che va sempre di pari passo con la mala fede. Parlare di Greta è il modo migliore se ci pensate per non parlare dei temi che propone. Con il solito, vecchio trucco, trito e ritrito del dito e della luna. È sempre quella cosa lì, ma da secoli ormai. Se qualcuno avesse da ridire qualcosa sulle accuse, sulle proposte di Greta, se ci pensate non perderebbe nemmeno un secondo per discutere di lei, ma si concentrerebbe invece sulle proprie tesi e ce le spiegherebbe e magari cercherebbe di convincerci. Invece attaccare Greta è facile, è immediato ed è appunto comodamente ignorante. Siamo pieni di persone che strusciano addosso a una persona per evitare gli argomenti che quella persona invece propone. E poi c'è il complesso di inferiorità. I temi ambientali, se ci pensate, sono terribilmente complessi. E invece questi hanno bisogno di parole semplici, di concetti semplici, di banalità. Appena qualcosa investe, come nel caso dei cambiamenti climatici, l'economia, l'ambiente, la socialità, lo stare insieme, la politica, diciamo quella con la P maiuscola, e allora no, loro non ci stanno, non reggono il gioco. E allora fatela un po' voi la differenza tra i gretini e i cretini. Buon mercoledì.